Promuovere i valori sportivi tra i giovani partendo dallo sport più seguito in Italia. Il calcio è di chi lo ama, questo è il titolo e allo stesso tempo il principio di base della Junior Team Cup 2013-2014 giunta ormai alla seconda edizione. Un torneo di calcio a sette riservato agli under 14 che avranno la possibilità di sfidarsi negli stadi della Serie A. Un progetto che coinvolge in totale 8.000 giovani, 513 oratori e 16 città. Ad aprire i giochi in Campania sabato 25 gennaio saranno le squadre degli oratori Don Bosco Vomero e del Baule che scenderanno in campo al San Paolo nel pregara di Napoli Chievo. Le compagini vincitrici dei trofei regionali della Junior Team Cup si sfideranno tra loro con l'obiettivo di approdare all'Olimpico di Roma dove si svolgerà la finalissima. Il direttore dell'oratorio Don Guanella di Scampia, Don Enzo Bugianobile, spiega l'importanza dell'iniziativa per questi ragazzi. Significa dargli una grande opportunità a questi ragazzi, a questi giovani, innanzitutto di condividere un'esperienza con tanti altri giovani. Ma soprattutto su questo territorio di Scampia, Secondigliano e Miano significa avere un punto di riferimento. E lo sport diventa uno strumento proprio di crescita, di condivisione, di fraternità, di solidarietà. Alla presentazione della Junior Team Cup nell'oratorio Don Guanella hanno partecipato due ambasciatori del calcio Napoli, Josip Radosevic e Gianluca Grava, che hanno parlato con i ragazzi dell'importanza di rispettare le regole e gli altri e non cadere in comportamenti offensivi come quelli avvenuti domenica a Bologna. Un episodio che ha portato il presidente onorario dei Rosso Blu, Gianni Morandi, a dimettersi, dando, come sottolinea anche Gianluca Grava, un segnale importante contro questo genere di atteggiamento. Sicuramente ha fatto un grandissimo gesto, cose del genere fanno solo male al calcio e penso che gesti come ha fatto Morandi spero che accadano più spesso quando ci sono delle situazioni del genere.